Carlo Savinelli 12.475.000 e dopo la bolla del finaltevo sono ancora qui Virgilio Di Cicco spero di continuare ad avere Savinelli con me Ciao Carlo Giaffreda Morizio 3.255.000, corto ma tosto Fabrizio Zucca 7.180.000, salute a tutti, ciao Antonio Smeraglia 7.440.000, primo live, grazie a tutti Ciao, mi chiamo Paolo De Angelis, ho 15.000.000 circa, basta, speriamo in bene Antonio Pezzi, Milano 6.000.000 Reto Locher 12.700.000 Sono i magnifici nove, coloro che giocheranno il final table dell'Italian Poker Open in quattordicesima edizione da un milione garantito In atteso ovviamente del tavolo televisivo da otto giocatori che prenderà corpo domani a partire dalle 15 sul palco della meravigliosa sala del nonno piano del casino di Campione d'Italia In questo momento Bui 150.300.000, 2339 iscritti, siamo al 36esimo livello di gioco, il prossimo livello vedrai Bui 200.400.000, il primo premio 240.000 euro Buonanotte a tutti, ma è tempo di sognare